Si è svolta lo scorso 10 maggio a Palermo la seduta dell'Agenzia del Demanio relativa al servizio di trasferimento veicoli ai fini della demolizione per la regione Sicilia. Ad aggiudicarsi la gara d'appalto per la provincia di Messina è stata l'autodemolizione del geometra Benedetto Belvedere di Capodorlando. Il lavoro della ditta orlandina, secondo i termini del bando, durerà per 36 mesi a partire dal 22 settembre 2021. L'azienda si occuperà dunque per un minimo di tre anni delle attività di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli che pervengono all'Agenzia del Demanio e delle vetture confiscate a seguito di violazioni del nuovo codice della strada su tutto il territorio messinese. E' un impegno che richiederà grandi sforzi ma è anche molto stimolante, spiega il geometra Benedetto Belvedere. Siamo orgogliosi di poter svolgere un servizio di tale rilevanza per tutta la provincia di Messina. Si tratta di un compito importante che siamo pronti ad assolvere con massimo impegno e dedizione per dare come sempre il nostro contributo ai fini di ridurre l'inquinamento e l'impatto ambientale legati ai rifiuti pericolosi come sono i veicoli fuori uso. Una nuova e affascinante sfida per l'impresa paladina, da oltre 40 anni consolidata realtà nel campo delle demolizioni e dello smaltimento dei rifiuti e che grazie a competenza e professionalità è ormai un punto di riferimento nel settore per tutta la Sicilia.